Ci sono diverse cose da dire, queste saranno tra virgolette, passatemi il termine, delle pagelle defaticanti perché l'analisi generale del momento la Juventus l'ho fatta nel video precedente, ve lo lascio comunque qui sopra nelle schede magari ve lo siete persi, volete andarvelo a rivedere, e vi dico che invece domani uscirà un altro video defaticante perché andremo ad analizzare la mia prestazione della YouTuber League, vi racconterò un po' qualche pensiero sparso di come ho vissuto questa partita, non vi dico il risultato finale perché magari qualcuno ancora non ha visto il video di Fede Marconi vi invito a andarvelo a vedere, è tutto online sul suo canale e domani parleremo un po' di questo ma oggi voglio chiudere il cerchio con Benfica e Juve e mi sembra anche doveroso non portarvi magari un'analisi perché secondo me c'è veramente poco da analizzare e parlare semplicemente di quelli che sono stati i giudizi dei singoli e quindi iniziamo subito perché Allegri voto 3 ed è un voto molto molto pesante, è un voto quasi simbolico che voglio dare e poi riprenderò il numero 3 per altre pagelle, perché? Perché ieri sera si è veramente vista la differenza di organizzazione di squadra tra Massimiliano Allegri e un allenatore invece che la squadra riesce a valorizzarla al 100%, loro che hanno schierato una sorta di formazione quasi tipo a dicezione di David Neres che era titolare, hanno fatto un turnover, un uomo di turnover, noi avevamo tanti indisponibili, questo è vero però siccome anche qua si ricade nel discorso che facevo stamattina, cioè non abbiamo probabilmente uno staff atletico di livello per quelli che sono gli standard qualitativi per una squadra importante come la Juve per il 2022-2023 in una competizione importante come la Champions. Ieri c'è stata una vera e propria lezione di calcio e forse anche di impronta che ha preso il calcio in questi anni magari dove Allegri è stato fuori dal giro magari dove Allegri non ha avuto quella voglia di affrontare un cambiamento, un'evoluzione del calcio che comunque lui stesso ha sottolineato, ha condiviso dicendo che anche in Serie A comunque in questo momento le squadre che devono salvarsi sono diverse, quindi o mangi quella minestra o salti dalla finestra potrebbe essere una sorta di riassunto perfetto per analizzare anche diverse scelte che mi ha lasciato perplesso per dire quella di non far partire Alexandro perché aveva un problema all'anca per poi inserirlo successivamente il fatto che ieri siano entrati sulle healing emiretti non è un discorso di fiducia nei confronti dei ragazzi ma soltanto un proiettarsi alla sfida con Lecce e quindi risparmiare energie fisiche e psicologiche di alcuni titolari e magari far rifiutare anche Vlaovic che dovrebbe aver avuto un problemino fisico, speriamo di lieve entità anche perché se iniziamo a perdere ancora ulteriori pezzi e a proposito di Vlaovic, Vlaovic è il giocatore che dovrebbe essere proprio utilizzato nel migliore dei modi cioè valorizzato nel migliore dei modi, ecco valorizzare secondo me è la parola chiave di oggi perché Massimiliano Allegri al suo ritorno sulla panchina della Juventus dice un allenatore deve fare principalmente due cose, portare risultati e valorizzare gli investimenti i risultati non sono arrivati, anzi sono arrivati risultati decisamente negativi in controtendenza rispetto a quelle che erano le aspettative, gli investimenti e anche se vogliamo il trend degli ultimi anni della Juventus quindi i risultati li mettiamo da parte la valorizzazione degli investimenti in questo momento è veramente di basso livello perché non stiamo parlando di valorizzare i giocatori usciti dalla cantera della Juventus non stiamo parlando di questo, stiamo parlando di valorizzare, di far rendere i giocatori pagati 70 milioni come Vlaovic come giocatori che valgan 70 milioni stiamo parlando di far rendere i giocatori pagati 40 milioni come Locatelli come giocatori che valgan 40 milioni stiamo parlando di investimenti come Gatti di 10 milioni che vengono buttati nella mischia all'interno della partita più delicata di Champions League quando invece più volte gli viene preferito Rugani non c'è logica, in tutto questo non c'è valorizzazione quindi il 3 è un voto che va a prendersi tutte queste differenze, tutte queste situazioni è un voto decisamente provocatorio anche però è il voto che racchiude alla perfezione secondo me il momento del calcio il momento in cui è arrivato il calcio di Massimiliano Allegri è come dicevo prima, o si cambia o si muore però per cambiare bisogna mettersi nell'ordine delle idee che si sta sbagliando invece ascoltando Allegri ho sempre l'impressione che lui pensi all'interno della sua testa io ho sempre la ragione, sono gli altri che sbagliano e prima o poi ve lo farò vedere io e non è il modo di approcciare una situazione se si vuole uscire da una situazione particolare e scomoda non è questo il modo di fare mi sono anche stancato di dire che serve un passo indietro dal punto di vista dell'umiltà questo passo indietro non c'è mai viene confermato il fatto che non sia un fallimento anche questo poteva essere un modo per riavvicinarsi alla tifosera e dire sì, scusate, è stato un fallimento non ho portato la Juventus nella direzione che doveva avere non sono riuscito a dare la mia impronta in chiave Champions ma proveremo a strappare una qualificazione in Europa League proveremo a vincere la competizione, proveremo a rincorrere in campionato rendendoci conto degli errori che sono stati fatti invece no, viene fatto passare in continuazione anche il messaggio eh, a parte quella settimana lì tra Salerintana e Monza eh, all'andata sono state un paio di ripartenze sono questi i problemi grossi della Juve perché se si vuole fare un passo avanti bisogna avere la forza di dire ho sbagliato, è stato un fallimento, devo resettare tutto se no non ci sarà la possibilità di migliorare semplicemente perché alla fine della fiera Allegri ha sempre ragione Cesni, voto 6 ho fatto anche una gran parata a un certo punto ho preso 4 gol fatico a trovare delle responsabilità per Cesni perché ieri c'è stata veramente la sagra della bruttezza difensiva un altro concetto secondo me che si deve sul quale si deve interrogare Massimiliano Allegri cioè una fase difensiva che non può funzionare come veniva utilizzata una volta con Chiellini, Barzagli, Bonucci tutti i giocatori al massimo della forma al massimo della carriera ora hai dei giocatori diversi e quindi hai anche delle caratteristiche diverse da far esaltare sia davanti che dietro questa fase difensiva non sta funzionando non si può avere una difesa continuamente sotto pressione bisogna cercare di allontanare gli avversari nella nostra area di rigore bisogna cercare di utilizzare i nostri giocatori tecnici là davanti e cercare di utilizzare le loro caratteristiche non abbiamo esterni che asalta all'uomo allora dobbiamo utilizzare un gioco magari di passaggi in velocità in pochi tocchi cercare di riempire gli spazi perché quando non riesce a saltare l'uomo nell'uno contro uno almeno l'occupazione degli spazi ci deve essere quindi Cesni sì ieri sera fa la brutta figura tra virgolette perché ne prende quattro però nasce tutto da un discorso di organizzazione di gioco offensiva e difensiva che la Juventus in questo momento non ha e che il Benfica invece si era dimostrato alla grande Bonucci voto 3 altro voto provocatorio perché non è un caso che esce il capitano della Juventus entrano delle nuove leve e si assiste a qualcosa di differente di fresco di nuovo di inedito senza nemmeno bisogno di preparazione di schemi e quant'altro semplicemente con una ritrovata voglia di freschezza Bonucci horror Bonucci horror coppia centrale Bonucci Gatti da film dell'orrore ieri sera ma veramente il quarto gol è veramente la resa dei conti definitiva di Bonucci che sbaglia il passaggio poi si sbraccia dicendo eh però dovete andare avanti lascia il buco e prendiamo il gol poco prima tra Gatti e Bonucci si inserisce il numero 27 non mi ricordo neanche già più il nome del numero 27 che ci ha fatto il pietra che si meritava anche la tripletta veramente giocatore impressionante del Benfica che Rafa Silva che fa un gol come vuole lui in mezzo ai centrali queste cose non possono esistere Bonucci è il simbolo in questo momento essendo il capitano di questa Juve è il simbolo del momento della Juventus serve davvero fare un passo oltre perché sennò il rischio di fare sempre figure peggiori sempre figure peggiori Gatti 4 ma non venitemi a dire che adesso la responsabilità è di Gatti perché se questo fino all'anno scorso giocava in B non ha mai giocato un minuto in Champions non viene buttato nella mischia nella partita più importante dove ormai il destino è segnato e vai a giocare in trasferta al Dalus dove la Juve non ha mai vinto nella sua storia in trasferta in Portogallo in Champions contro il Benfica e questi vanno a manetta sono una squadra in formissima gli metti Gatti io quando ho visto la formazione iniziale non volevo crederci certo c'è il problema per Alexandro qualcosa devi fare però allora perché poi entra Capite che allora gli faccio stringere i denti se tanti denti li deve stringere comunque per farmi uno spezzone di partita non capisco sinceramente non capisco ma non perché Gatti sia scarso ma perché Gatti oggi non è palesemente pronto per questi palcoscenici perché in diverse partite in cui poteva dire la sua in Serie A nelle rotazioni non è mai stato inserito è stato ottenuto in Naftalina fino adesso non lo vedevano da Monza dove era stato anche colpevole in quell'occasione del gol subito anche ieri sera il gol del 1-0 lo perde Gatti però la colpa è di Gatti che non è pronto per giocare la Champions League grazie al pifero o del fatto che non è stato valorizzato l'investimento di Gatti giunti fino a questo punto e quindi poi buttato nella mischia come una sorta di kamikaze vogliamo mettere Gatti come colpevole della situazione secondo me è un ragionamento molto di basso livello anzi è abbastanza miope una cosa una visione abbastanza miope Danilo voto 5 3-4-5 in difesa e sai il portiere proprio andiamo in scala Danilo non una bella prestazione ma dei 3 dietro anche se per certi momenti della partita sembrava quasi più una difesa 4 con Bonucci e Gatti centrali Danilo non è andato bene ma sicuramente è andato meglio rispetto ai due difensori italiani Quadrado voto 3 l'altro voto provocatorio di questo momento della Juve perché Quadrado oltre all'ingenuità del rigore procurato è un altro di quelli che in questo momento forse è meglio non farlo giocare perché anche lui esce e c'è una voglia differente e allora magari sono tutte coincidenze magari sono tutte casualità però certe cose devi anche prenderle così come sono e cioè provare ad insistere su una strada differente si parla del rinnovo di Bonucci si parla di la volontà di cercare di rinnovare ancora Quadrado adesso vedrete quando si parlerà del rinnovo di Rabiot quando magari addirittura verrà fuori il rinnovo di Alexandro perché addirittura quello di De Sciglio non era in previsione eppure eccoci qua la Juve come dicevo oggi deve iniziare a guardare avanti e scegliere un percorso differente ha bisogno di un'inversione di tendenza se no non uscirà mai da questa situazione decisamente negativa Quadrado Bonucci e Allegri secondo me sono un po' la vecchia guardia sono i simboli di questo momento Juve che non va di questa situazione Juve antica che non funziona più e di quello che servirà in futuro la Juventus quindi voto 3 per provocatorio oppure per Quadrado voto 6 a Kostic che secondo me il suo ce l'ha messo è stato uno dei giocatori più positivi secondo me della Juventus però poi anche lui si perde all'interno del marasma generale la colpa non è sua ma del fatto che la Juventus in questo momento non è carne né pesce è una squadra di dilettanti allo sbaraglio e nulla più Locatelli voto 5 perché nel finale qualcosina di grinta ce lo vedo ma sotto il punto di vista della costruzione del gioco siamo decisamente indietro e sicuramente passa anche dalle scelte di insistere con Locatelli ancora una volta in quella posizione quando in realtà in questa stagione ha già dimostrato diversi limiti ma è quello che dicevo prima Locatelli che viene pagato 40 milioni di euro che con la Nazionale dimostra di riuscire a stare all'interno di un gruppo magari non da titolare col Sassuolo dimostra di essere uno dei giocatori più influenti più interessanti della nuova generazione della Serie A arriva la Juventus e deve fare queste figure qui probabilmente non è utilizzato nel migliore dei modi non è valorizzato l'investimento di Locatelli e quindi 40 milioni che sono stati spesi l'anno scorso se sono un dirigente della Juventus se sono un investitore della Juventus se sono un socio della Juventus io questi soldi voglio vederli valorizzati in qualche modo non voglio spendere e buttare via 40 milioni di euro così poi possiamo dire che è quello per i Locatelli probabilmente sì però la buona volontà ce la mette se poi non viene valorizzato allora qua entrano in gioco altre figure come appunto chi gestisce le rotazioni chi gestisce gli allenamenti chi gestisce la squadra per quanto riguarda l'area sportiva Rabiot voto 5 non una grande prestazione di Rabiot non mi è piaciuto anche lui è stato assorbito completamente così come non mi è piaciuto McKennie che si trova il gol del 4-3 in girata però all'interno del resto della partita insomma un'altra grande prestazione opaca un'altra grande incognita ma il centrocampo della Juve ieri sera veramente non ci ha capito niente nonostante la superiorità numerica nel centrocampo dato che loro giocavano con due mediani quindi già questo è abbastanza divertente se proprio vogliamo molto 5 a Vlaovic che svirgola poi quel pallone sulla ribattuta ma fa anche tanti errori tecnici di concentrazione ma questo è il più grande investimento che non viene valorizzato io sono veramente convinto che Vlaovic possa dare tanto di più ma tanto 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 di più mi auguro che non sia l'ultima partita di Vlaovic con la maglia di Ventus in Champions non in questa stagione perché poi col PSG verosimilmente potrebbe giocare ma anche nella prossima mi auguro di arrivare in Champions mi auguro di avere Vlaovic mi auguro di riuscire a trovare un modo di valorizzare Vlaovic ma questo non scenderà dal cielo questo bisogna volerlo e bisogna lavorare quotidianamente per ottenere quei risultati che poi ti fanno dire castro Vlaovic sì adesso è uno dei migliori prospetti uno dei più interessanti attaccanti in circolazione perché le caratteristiche le qualità ce le ha se non le mettiamo in evidenza se non lavoriamo per farle venire fuori allora poi diciamo Vlaovic non fa mai gol sì grazie al pifero 5-5 a Ken che verosimilmente ha segnato il gol ha segnato il gol nonostante magari potesse essere segnato anche Vlaovic ma di questo me ne frega relativamente poco con mezzo voto in più perché prova anche un gol di tacco a un certo punto viene sacrificato sul banco dei colpevoli tra virgolette nell'intervallo per fare spazio ad Arkadiusz Milik ma diciamo che la prestazione di Kene Vlaovic bene o male siamo lì una prestazione di basso livello però ribadisco se gli attaccanti toccano 9 palloni perché penso che abbia toccato 9 palloni ieri sera beh diventa veramente molto molto complicato e addirittura il gol lui l'ha fatto sulla Mischi è stato si è fatto trovare pronto in quel momento lì 5 e mezzo da Alexandro che non mi è nemmeno dispiaciuto troppo però ci sono stati dei momenti c'è stato un momento in assoluto che ha fatto un passaggio da sinistra verso destra completamente a caso orizzontale dall'altra parte del mondo e lì ho detto io qua se non spengo la tv qua non la spengo mai più in assoluto nemmeno malissimo Alexandro però ci sono veramente dei momenti che penso ma questo come fa essere ancora la Juventus come fa a guadagnare 6 milioni di euro all'anno come è possibile poi secondo me da braccetto di difensione la difesa 3 può dire la sua però la Juve ha bisogno di cambiare aria la Juventus ha bisogno di fare un passo avanti di staccarsi da queste convinzioni legate al passato il passato è passato ha funzionato ci ha fatto godere ci ha fatto festeggiare ora non si può più andare avanti con questi personaggi con questi calciatori con questi elementi serve aria fresca ma è incredibile che la Juventus sia ancora qui con Alexandro e Rosa nel 2023 è incredibile molto 6 a Miretti che è subentrato e ha dato quella scossa quell'energia quella voglia quella freschezza quella spensieratezza che ha sempre dato lui e non mi capacito di come Miretti sia completamente scomparso dai radar per un errore andata col Benfica quanti cazzo ne facciamo di errore nei singoli ogni partita eppure gli altri continuano a giocare Miretti continua a far della panchina inspiegabile voto 6 a Sule che anche lui entra con un buon atteggiamento tra l'altro a un certo punto ha l'occasione addirittura per fare il 4-4 peccato che vada a impattare con il destro un giocatore frizzante giocatore che purtroppo si mangia anche il gol del 4-3 e poi per fortuna interviene McKennie in girata ma qualcosa in Sule c'è bisogna approfittarne di questa cosa anche lui completamente scomparso nel dimenticatoio viene buttato nella mischia soltanto quando le cose ormai sono irrecuperabili non riesco veramente a capire la gestione di Sule non mi sembra questo il modo di gestire questi profili voto 6 ad Arkadius Milik che è un giocatore che non si era visto praticamente per tutto il secondo tempo a un certo punto ho detto anche cazzo è vero che c'è Milik in campo poi l'occasione che ha a buona la sua pulizia tecnica la sua coordinazione la sua forza nel giocare a calcio in maniera semplice ci riapre una porta che poteva portare addirittura a un insospettabile 4-4 ma questo calciatore ha impattato bene con la Juve e anche qui chissà perché non gioca mai le ultime 4-5 sempre in panchina problemi fisici l'unica cosa che mi viene in mente allora delle due non convochiamolo teniamolo fuori per due o tre partite recuperiamolo al 100% perché averlo a mezzo servizio non ha senso perché è questo uno che ci serve e alla grande e concludo con il voto 8 a Ealing Junior perché veramente l'impatto che ha avuto questo ragazzo con la Juventus è stato di altissimo livello l'altro giorno qualcuno mi ha detto perché non è parlato con l'Empoli perché aveva giocato pochissimi minuti ne avevo parlato non avevo dato la valutazione solo perché aveva giocato pochi minuti avevo detto che era stato un buon impatto un buon esordio in Serie A ma l'impatto con la Champions è ancora più disastroso cioè disastroso nel senso buono mostruoso perché veramente ha messo tre, quattro, cinque palloni tutto nello stesso modo poi va bene un paio di errori tecnici ma quelli ci stanno i palloni che sono arrivati hanno ridato vita a una Juventus clinicamente morta palloni precisi nel modo giusto giocati con i tempi giusti questa voglia di andare in avanti questo cazzo siamo noi questa roba qui siamo noi però siamo una squadra che continuiamo questa volontà di bloccarla sta Juventus di toglierle di tarparle le ali io non riesco a capire che cazzo difendiamo sempre io non riesco a capire che cazzo difendiamo sempre noi a un certo punto ieri sera difendavamo il 4-1 per il Benfica ragazzi ci siamo messi a palleggiare a centrocampo per difendere il 4-1 del Benfica cazzo due passaggi va in avanti va in porta da destra a sinistra a sinistra metti in mezzo e fa gol e te l'ha dovuto dimostrare un ragazzo che aveva mai giocato in Champions League ma io non ho parole cioè ci siamo messi a gigioneggiare in mezzo al campo a palleggiare per gestire il 4-1 del Benfica perché avevamo paura di prendere degli altri ma tiriamo fuori i coglioni ma veramente tiriamo fuori i coglioni perché questa situazione è ingiustificabile perché perdere si può ma perdere in questo modo non ci sto minimamente perché senza l'ingresso di questo qui senza l'ingresso di questo ragazzo che ha avuto un impatto incredibile con la Champions League ieri sera fai la figura una figura terrificante fai una figura terrificante l'hai fatta perché l'hai fatta sei uscita nel giro dei Champions hai fatto tre punti in cinque partite ne hai vinta uno ne hai perse quattro quindi figurati che figuraccia che hai fatto ma questo qui ti ha salvato la faccia perché il risultato 4-3 è terribilmente bugiardo e da qui bisogna ripartire da questi ragazzi qui bisogna ripartire invece che dire sì però quegli altri no quegli altri hanno già avuto le loro occasioni e adesso le occasioni è giusto che ce le abbiano anche questi dato che abbiamo un progetto chiamato Next Gen e la Next Gen serve già oggi mica dal Next dall'oggi sì